Il muro della casa lungo la Flaminia nella frazione di Cucurano porta ancora i segni e le tracce di vernice rossa lasciati dall'auto di Patrick Mencoboni, 24 anni, padre di una bimba di soli 5 anni che alle 2.30 di domenica mattina si è schiantata contro lo spigolo della casa in una carambola fuori controllo che non gli ha lasciato scampo. Nella sua corsa l'auto prima ha divelto tre pali in ferro che sostengono una recensione metallica che gli hanno fatto da perno e poi ha impattato violentemente la fiancata a sinistra contro il muro della casa, un urto che non ha lasciato scampo a Patrick che è morto sul colpo. Mentre il suo passeggero, un amico 19enne, è uscito dall'auto con le proprie forze e si è seduto a terra accanto all'auto dopo aver cercato inutilmente di aiutare l'amico e chiamato aiuto. Ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché il fragore dello schianto nel cuore della notte ha svegliato gli abitanti della casa di fronte che hanno subito attivato i soccorsi, arrivati rapidamente e che dopo aver constautato il decesso di Patrick hanno prestato le prime cure al suo amico portandolo al pronto soccorso di Fano e da dove poi è stato trasferito al torrette di Ancona ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oggi sul luogo dell'incidente e sul posto di lavoro di Patrick è stato un pellegrinaggio continuo di amici, conoscenti, compagni di comitiva che hanno portato bigliettini, fiori, anche un modellino di moto e un palloncino a forma di cuore. Quella tragica notte dopo una serata in un locale poco distante si dovevano ritrovare nel piazzale del sogno caffè come ritualmente facevano quasi tutte le sere che dista soli pochi metri dalla palazzina dello schianto. Ancora da ricostruire, la dinamica di questo incidente Patrick a detta dei suoi amici era uno prudente alla guida visto anche il lavoro che faceva nell'officina di famiglia, le macchine, l'asfalto non avevano segreti per lui, andava anche in moto e al volante a chi era suo passeggero dava sicurezza, non era uno spericolato. Anche noi di Fano TV lo avevamo ripreso durante un intervento di soccorso per un camion impantanato il 7 febbraio dello scorso anno in zona Tre Ponti con la sua potente autogrubbiana. Le tracce lasciate sull'asfalto raccontano di una breve frenata che non è però riuscita ad attutire l'urto. Forse il ghiaccio formatosi nella notte potrebbe essere una possibile causa dell'uscita di strada della sua Fiat Punto Rossa. Ora su questo indagano gli agenti della stradale di Urbino.